Aspettando, aspettando, viato ai libri! Cari amici, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento della video newsletter della settimana e sto parlando della quinta settimana di festival, la settimana che va dal 6 ottobre al 9 ottobre. Parto però rivolgendo le scuse e davvero esprimendo il dispiacere verso le persone che sia nell'alta di Gorle che nell'alta di Palosco non sono riusciti ad entrare. Purtroppo sapevamo che quelle due date erano un po' così, un punto debole rispetto alle capienze. Però sappiate che d'ora in poi questi problemi non ci saranno più, d'ora in poi saranno tutti spazi ampi. Comunque, torniamo al programma. Il 6 ottobre il festival riprenderà il proprio cammino a Mornico Alserio e ci sarà Barbascura X, che immagino che molti di voi conosceranno, ma mi sto accorgendo con grande piacere che molti di voi invece stanno conoscendo che questa contaminazione tra mondi è interessante perché Barbascura X, lo ripeto, è una personalità molto nota nel mondo del web, soprattutto su YouTube, un po' meno magari nell'ambito delle biblioteche. Ecco, stiamo creando questa contaminazione che sempre cerchiamo. Comunque, Barbascura X sarà a Mornico Alserio nel teatro di Mornico. Il giorno dopo siamo a Calcio per il quinto appuntamento dedicato alla ricerca del tempo perduto e troveremo Sandra Zoccolan che ci leggerà la prigioniera. Sabato 8 invece ci riposeremo, ma ci vedremo domenica 9 in carcere con due repliche alle 15 e alle 17. Dicevo ci vedremo, ma per quelli che hanno prenotato, perché lo sapete, lì era necessario farlo e le iscrizioni sono chiuse da tempo. E in scena avremo Michele Marinini, Michele Agazzi e Marco Azzerboni che ci presenteranno sulla strada di Jack Kerouac. A questo punto credo di avervi detto tutto, non vi resta che augurare a tutti Fiatto ai libri! Fiatto ai libri!